Sono Clarence. Dalle mie parti si lotta per sopravvivere. Non sono perfetto. Gioco le carte che mi sono state date. Mamma, un giorno ti porterò via. Ho un piano. Che ci facciamo qui? Lì vive Gesù. Voglio essere così tra dieci anni. Io voglio essere così adesso. Scopriamo dove trova ispirazione. Mi basterà imitare quello che fa. Pensate ai soldi che ci darebbero. Oh, uomo senza vita, apri gli occhi. Elisha. Che cosa vuoi dimostrare? Che non sono un nessuno. Tu trova la fede e troverai le risposte. Clarence, ti sei macchiato del reato di frode per ottenere illeciti guadagni. Se mi consegni Gesù di Nazareth sarai libero di andartene. E ti darò potere, ricchezza e diventerai qualcuno. Morirei piuttosto che consegnarlo a Roma. E morte sia. Prodia. Siها! Clarence, anche se spesso ti comporti d'egoista c'è un'anima buona qui da qualche parte. Gesù di Nazareth È il mio destino essere qui Dall'azione